Siamo con Davide Echise, torinese d'origine, ma sei sommarivese d'adozione da ben 17 anni, Somma Riva del Bosco, in questo momento ci troviamo in una bellissima balconata da dove si può vedere Somma Riva del Bosco dall'alto. Allora Davide, io con te voglio partire da due aspetti di cui tu ti occupi, due aspetti molto ampi e ovviamente anche molto importanti, tu sei docente di difesa personale e maestro di Jiu Jitsu. Ecco, vai, insomma, spieghiamone uno alla volta per cercare in questa occasione con te qui di capirne qualche cosa di più. Buongiorno a tutti, sì, io sono un maestro di Jiu Jitsu, il Jiu Jitsu è un'arte marziale giapponese, un'arte marziale giapponese che prevede un pochino tutto, si intende, si parte dalla difesa a distanza, quindi calci e pugni, per arrivare alle proiezioni, ai soffocamenti, alle verticolari, alla lotta a terra, quindi un mondo veramente molto ampio. Sono attualmente responsabile del settore Jiu Jitsu per la regione Piemonte, parlando di Opens Italia come ente di promozione sportiva. Sono un docente di difesa personale perché parallelamente ho fatto un percorso formativo in ambito sicurezza, ho fatto dei corsi antiterrorismo presso la Trade Academy, ho fatto dei corsi avanzati per l'uso di armi da fuoco, ho fatto corsi all'Ire di Parma, l'Istituto di ricerche esplosivistiche per diventare un esperto di esplosivi, quindi parallelamente porto avanti anche questo percorso. Davide, che cosa voglio dire, che cosa sono i corsi che tu su tutto il territorio provinciale tieni? Entriamo un po' più in uno specifico. Allora, attualmente, intanto la Omega Academy, di cui sono presidente, con cui facciamo corsi, una SD, è nata a Sanfreno. Per motivi pratico-logistici la sede legale è a San Mariva Bosco, in cui abito a San Mariva del Bosco, ma ci sentiamo sanfredesi perché la nostra realtà è nata a Sanfrè. Io devo molto all'amministrazione comunale di Sanfrè che ha creduto in noi, nello specifico l'ex sindaco Gian Mario Racca, una persona che si è operata veramente molto per aiutarci con tutti i nostri progetti, si è esposto in prima persona, per intenderci organizzavamo i primi stage nazionali e lui non solo veniva semplicemente a fare due parole, ma si metteva al kimono e veniva a provare con noi, quindi devo veramente moltissimo all'amministrazione comunale di Sanfrè, al sindaco Gian Mario Racca, all'ex sindaco. Attualmente i corsi sono a Sanfrè, sono a Cavaller Maggiore, presso il Palazzetto dello Sport. Fare Jiu Jitsu per me è una passione, non è un lavoro. Lo faccio tra l'altro con mio figlio che pratica Jiu Jitsu da quando aveva 4 anni, adesso ho 20 anni, quindi mi sento fortunato nel poter fare una cosa che è una passione e la faccio con mio figlio. Davide, invece per quanto riguarda le scuole, perché so che tieni anche dei corsi con diverse scuole della provincia, voglio che ci dici quali e poi voglio che ci spieghi che cosa fai con gli studenti. Sì, allora i corsi nello specifico li faccio con il liceo Gioletti Gandino di Bra e fino l'anno scorso anche con il Ragioneria, con il Guara, sempre di Bra. L'idea è nata da una mia allieva, un'allieva che era il liceo linguistico di Bra, ha avuto l'idea di portare alcune lezioni di Jiu Jitsu a scuola. A suo tempo ho parlato con il suo professore di educazione fisica, il professor Teresio Venere, ho visto disponibilità in merito e allora ho provato a sviluppare un progetto ad hoc proprio per le scuole, per ragazzi di quarta e quinta superiore. Sono partito da un progetto che era nato per il femminicidio, contro il femminicidio, per la difesa personale per le donne e ho cercato di riadattarlo per ragazzi di quella fascia d'età. Non ci limitiamo a fare tecniche di difesa, dalle arti marziali o da sistemi di difesa militari. Ma andiamo un pochino nello specifico con una parte teorica dove l'obiettivo è in primis far capire bene che cosa vuol dire difesa. La linea tra difesa e offesa è veramente molto sottile e penso sia importante chiarire bene quando ha senso difendersi. Io cerco di trasmettere il concetto che prevenire, quindi riconoscere e prevenire una situazione pericolosa è indubbiamente il miglior strumento di difesa. Collaborare con le forze dell'ordine, avendo ben chiaro che lavorano con noi, quindi la mia brutta esperienza, se poi segue una denuncia, probabilmente posso evitarla qualcun altro. Quindi c'è una parte teorica iniziale, ogni lezione facciamo chiacchierate in merito per approfondire bene tutti questi argomenti. Io porto la mia esperienza personale, consiglio sempre ai ragazzi di leggere molto in modo di far tesoro degli episodi di microcriminalità che hanno colpito altre persone proprio per poterle evitare. Molto spesso proprio l'atteggiamento mio preventivo può evitarmi brutte antipatiche situazioni. Poi passiamo invece alla parte pratica dove con l'esperienza nata in primis dal Jiu Jitsu, vediamo delle difese a breve termine che possiamo utilizzare sugli attacchi più comuni sia a mano armata sia a mani nude. Ti volevo chiedere quali sono i canali per poterti contattare per chi eventualmente fosse interessato ad avvicinarsi a quella che è la realtà che ci stai raccontando? Allora se uno scrive Omega Academy o semplicemente Davide Chiso su internet, sui social, trovate il nostro spazio, siamo su Instagram, siamo su Facebook, abbiamo un sito internet. Direi che principalmente questo, poi se vuoi ti lascio il numero di telefono. Assolutamente sì, poi magari lo metteremo nella descrizione sotto l'intervista. Per chiudere Davide, insomma parliamo anche non solo del discorso di educazione civica e quindi di prevenzione ma anche dal punto di vista sportivo e quindi l'arte marziale in questo caso il Jiu Jitsu può essere anche un modo per insomma pratica sportiva, per provare ad esprimersi attraverso quell'arte lì. Sì, indubbiamente io credo molto nello sport e in particolare nelle discipline marziali. Credo nello sport come strumento di educativo e formativo. Il corso che facciamo, i progetti che portiamo avanti nelle scuole, mi piace pensarli come dei progetti non solo legati all'educazione fisica ma anche all'educazione civica. Tutto il Dipartimento di Scienze Motori, ad esempio del Liceo di Brà, crede molto in questo progetto ed è grazie a loro che continua a essere vivo. Dobbiamo ringraziare anche per la fiducia la professoressa Scarfì, Francesca Scarfì che è dirigente del Liceo Gioletti di Gandino di Brà. Alla base di tutto questo c'è un ente di promozione sportiva, nel nostro caso Opes Italia che è la base e il supporto per tutti questi progetti. Opes Italia è un ente di promozione sportiva giovane, giovane ma molto importante, molto dinamico, si portano avanti molti progetti legati sia allo sport ma anche al sociale. Io faccio parte del Consiglio Direttivo di Opes Piemonte, il Presidente ha creduto in me e io per passione credo in molto in tutto quello che faccio e ho ancora voglia di fare molto, mi danno spazio per cui andiamo avanti in questo senso. Ad esempio a breve, lo faremo una presentazione ufficiale, il 5 aprile durante uno stage regionale che ho organizzato al Palazzetto dello Sport di Cavaller Maggiore, nascerà un settore difesa personale a livello nazionale, quindi un settore difesa personale di Opes Italia. Questo settore sarà diretto da me in collaborazione con Deimos Palmero, Vice Presidente del Comitato regionale, regione Piemonte, lui nello specifico è un esperto di MMA, Karate e Krav Maga, io porterò il Jiu Jitsu, la mia esperienza è nata in ambito della sicurezza. Nascerà questo settore difesa personale perché l'idea è proprio quella di regolamentare un pochino questo ambiente, cioè creare persone qualificate ad insegnare non solo dal punto di vista marziale, fisico, ma dal punto di vista teorico che forse è ancora più importante anche perché, ripeto, andiamo ad educare anche delle persone nell'ottica di difesa, quindi è fondamentale secondo me la parte teorica.